26 giugno Il mio Dio mi verrà incontro con la sua bontà. Salmo 59,10 Meraviglioso Dio! Le parole del verso di oggi costituiscono una preziosa certezza per chi spera nel Signore. Prima di tutto, per l'appartenenza a Dio, il mio Dio. Chi ha fatto di Dio il proprio Signore non sarà mai deluso e riposa nella certezza che la sua vita gli appartiene. Chi riconosce Gesù come il proprio personale Salvatore può affermare che il Signore è il suo Dio. Inoltre, Dio ci viene incontro. Egli conosce ogni nostra necessità e si avvicina a noi, interviene in nostro favore. Il Signore non si dimentica dei Suoi figli e non abbandona mai chi si trova in pericolo, nella difficoltà, nella solitudine. Egli raggiunge tutti coloro che nell'avversità lo invocano e chiedono il suo intervento. Infine, il Signore ci ama e si prende cura di noi per la sua bontà. Tutto quello che Dio compie in favore di chi lo prega è per la sua grazia, per la sua bontà e misericordia, che manifesta verso chi pone in Lui fede. Il Signore è meraviglioso. È vicino a chi crede e manifesta il suo amore, operando potentemente in loro favore.